Buongiorno ai telespettatori di Brianza Channel. Siamo nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che è uno dei più attivi in tutta Italia, anche abbastanza numeroso come iscritti. Attivi e soprattutto all'avanguardia in tantissime iniziative. Tra queste l'ultima varata dal Presidente, che è una donna, si chiama Francesca Sorbi, ed è la Camera Arbitrale. Cos'è la Camera Arbitrale? Grazie Laura. Buongiorno a tutti. La Camera Arbitrale è un ente che si propone di offrire giustizia. Invece di andare in tribunale a fare tante code, si può venire da questo organismo privato. Privato però significa anche puntualità, convenienza di costi, puntualità. Ecco, questo ci proponiamo di offrire ai cittadini. In pratica litigare non conviene a Monza oppure sarà più semplice fare pace? Come funziona? Spiegacelo proprio in poche parole. La Camera offre una sorta di tribunale, un tribunale fatto da privati. Vi potrà essere un giudice unico oppure vi potranno essere tre giudici, qualora la controversia sia così complicata, così grossa, che sia opportuno nominare più di un giudice. Questo giudice viene chiamato arbitro. Si tengono delle udienze, esattamente come in tribunale, si dà ampio rispetto al cosiddetto principio di contraddittorio, cioè ciascuna parte ha il pieno diritto di dimostrare le sue ragioni. E si svolge un giudizio, con la differenza rispetto al pubblico, che nell'ambito privato si cerca, di solito ci si riesce, a rispettare dei tempi molto contenuti. Inoltre, la scelta dell'arbitro viene fatta sostanzialmente dalle parti oppure dalla Camera arbitrale, che è un ente totalmente indipendente, neutrale, non ha nessun interesse alla risoluzione della controversia in un senso o nell'altro. sceglie l'arbitro o gli arbitri tra le persone che sono le più competenti per risolvere quel caso specifico. E quali saranno i casi che si possono risolvere? Cioè, che tipo di controversie? Ovviamente parliamo di controversie in ambito civile. Non ci sono dei limiti alla tipologia di controversie. Possono essere delle controversie commerciali, delle controversie societali, ma anche liti condominali. In proposito, vorrei dire che va sfatato quel principio per cui l'arbitrato è una cosa da ricchi. Non lo è. Nella nostra Camera arbitrale siamo pronti a risolvere anche controversie di piccolo valore economico, ma che a volte sono molto importanti per il cittadino. Infatti, è previsto anche un tipo di procedura molto veloce, snella, una sorta di forum, come lo si vede in televisione, che è un processo orale. Un processo orale che viene risolto in tre settimane al massimo. Cioè, in pratica, forum della Brianza. Ma è l'unico in Italia? Credo di sì, offerto da una Camera arbitrale. Credo che sia proprio una nostra esclusiva iniziativa. E un'ultima domanda. Quanto costa? Il forum, lo posso dire, perché è un tariffario molto basso, sono le cause fino a 5.000 euro di valore, costa 750 euro, tutto compreso. Per le altre, il liti, invece, dipende dal valore della controversia e dal numero degli arbitri. Molto interessante. Quando è che iniziate? Così magari veniamo a vedervi. Siamo già pronti. La struttura già c'è, la segreteria è presso l'organismo di mediazione, che noi abbiamo già da tanti anni inaugurato. Quindi c'è già la struttura. Tutti i dati si possono trovare sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza. Ricordiamolo? www.ordineavvocatidimonza.it Oppure sul sito della Camera Civile di Monza, con cui questa iniziativa è stata pensata, realizzata, condivisa. Bene, io direi che può essere veramente interessante per risolvere tutte queste controversie, che tante volte si lasciano anche perdere perché si dice no, no, andare in un tribunale, oppure altre volte si è costretti a subire dei tempi veramente elefantiaci. Grazie. 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 Grazie a tutti.